la wwe ha reso noto che nello show in india dell'otto di settembre john cena farà squadra con set rollins e due se la vedranno con ludwig kaiser e giovanni vinci e attenzione è un bel attestato di benemerenza è per i ragazzi dell'imperium che avranno una grande vetrina e l'opportunità di cimentarsi con due pezzi grossi della federazione nella stessa card kevin owens e sammy zane difenderanno i titoli tech team contro gli indus share ovvero veer e sanga che avranno al loro angolo jinder mahal anche joey cox che è il tatuatore che ha inchiostrato sul corpo di diverse superstar wwe e su quello di tanti esponenti dello staff della federazione il logo commemorativo di bray wyatt ha deciso di donare tutto il denaro ricevuto per il suo lavoro alla famiglia del wrestler scomparso vediamo cosa avete votato nei sondaggi della settimana il 55 per cento di voi preferirebbe essere a passeggio con chelsea green attratti dalla sua bellezza il 26 per cento va al chiosco dei panini con braun stroman a mangiare come un bufalo e per finire il 19 per cento sceglie sciozzi abbinata al parco dei divertimenti allora calcolando che il personaggio tv di chelsea green è insopportabile e che poi magari mi lascia col cane oppure ad attenderla fuori dai negozi litigando per giunta con tutti ma io tenderei ad escluderla cioè sì anch'io ne subisco il fascino però qui consideriamo anche l'alter ego no dei vari protagonisti e non so se ne possa uscire una giornata di quelle da ricordare forse sì ma per i motivi sbagliati quindi mi spiace chelsea green karen come la chiamano gli americani no questa tipologia di comportamento ma vado altrove e rimangono altre due opzioni queste sì queste sì belle però visto che lo svunch dalle mie parti in dialetto si dice così no il camioncino che prepara da mangiare lo svunch visto che lo svunch mi attira però ci posso andare bene o male sempre a questo punto scelgo l'esperienza un po più fuori dal comune no quindi armiamoci di biglietti saltacoda con sciozzi e via con entusiasmo su tutte le attrazioni e tra l'altro un po mi manca è andare in un parco divertimenti sono tanti anni che non lo faccio e visto che dentro di me rimango un po bambino beh insomma sarebbe anche un modo per tornarlo pure a livello di circondario andiamo avanti e passiamo a qualcosa di più concreto chi tradirà per primo vi ho dato quattro opzioni e tra i possibili giuda che vi ho proposto il 40 per cento ritiene che sarà bailey la prima a fregare i suoi alleati poi solo si coa al 32 santo sescobar al 22 e ludwig kaiser al 6 io sulla rottura imminente dalle damage control non sono poi così sicuro ci sono segnali contrastanti sembrava inevitabile dopo che io sky ha vinto la valigetta del money in the bank poi però in qualche modo la federazione ha fatto ricucire i rapporti e bailey ha anche una questione aperta con sciozzi che è tornata dal parco dei divertimenti e ce l'ha con lei e per di più è tornata in tv seppur da infortunata dakota kai e quindi non è più nemmeno un discorso a due tra bailey e la padrona del cielo e io sky ma c'è anche dakota kai che va tenuta in considerazione quindi io a questo punto seguo la corrente dallo scetticismo e metto altrove il mio voto però il problema è dove e vi dico la verità mi alletta ludwig kaiser e sarebbe il più inaspettato dei quattro visto che nell'imperium le colpe e il biasimo se li prende quasi sempre giovanni vinci tra l'altro tra i due kaiser è sempre stato quello sin cui maggiormente e migliormente profilato fatemi passare il termine dai è quello che ha disputato anche i match più competitivi che ha dato la sensazione di saperci fare e sembra il numero due ideale per dirne quattro vinci ma essere poi il primo a scoppiare perché la fornace della sua pazienza ha bruciato tutto il carbone che c'era però qua è difficile perché sia solo sicoa che santo sescobar in effetti la leva del tradimento potrebbero azionarla anche loro da un momento all'altro mentre su bailey continua ad avere questa strana percezione ok allora questo sondaggio è decisamente tosto quale squadra sarebbe la più forte tra le quattro elencate vincono a mani basse ricochet e chad gable col 51 per cento il mix perfetto di tecnica e spettacolo mi avete scritto nei commenti ed è difficile se non impossibile darvi torto dominic misterio e logan paul seguono col 24 per cento e chi li ha votati l'ha fatto perché sarebbe il team più odiato di tutti e poi entrambi sono furbi hanno bevuto latte di volpe e quindi fregherebbero a manetta pur di vincere a seguire praticamente quasi alla pari le due lingue lunghe grayson waller e austin theory che forse convincono un po di meno perché sono già di per sé molto simili e poi ellen knight e cameron grimes in ultima piazza perché il primo credo ormai sia attualmente molto più collocabile tra i singoli e poi non hanno mai avuto modo per esprimere una sorta di vicinanza né caratteriale né con lo stile portato nel ring allora sono tutte coppie belle sono coppie gasanti quale vorrei vedere cioè fossi io a scegliere quale creare beh nell'economia delle cose la migliore al momento è grayson waller e austin theory a patto però di scrivere delle dinamiche interne alla formazione tali da potenziarne i personaggi dando loro quella quadridimensionalità che a volte manca e la squadra potrebbe mettere una pezza a queste falle però il sondaggio è quale sarebbe la più forte chiaramente nel mondo del wrestling essere forti è aleatorio però è chiaro che ricochet e gable sono la scelta più sicura quella giusta dai probabilmente inventiamoci dei match sì dominic e logan paul rubano e ce la fanno sono messi bene anche loro però in una contesa concreta le skill che ci hanno mostrato sono evidentemente superiori a quelle di chiunque altro ok però io farei waller theory e non è la più forte visto che ripeto la domanda era quella però è quella con maggior potenziale forse se trattata bene se maneggiata con i guanti poi vi ho chiesto tra i tre eventi che sin qui voi avete votato dandogli maggior consenso sul mio profilo youtube principale quale fosse il migliore e avete ribaltato il ranking perché la classifica che ora vi elenco ma che vedete a schermo è il contrario di quella che avete costruito a migliaia col passare del tempo segno che forse con i mesi la percezione dei ricordi cambia perché qua vince ma la grandissima vresta almenia 39 night one addirittura col 73 per cento delle preferenze a money in the bank col 16 e alla royal rumble col 10 giusto le briciole e i soldi per la merenda che forse nemmeno bastano quindi devi andare o a scrocco o a credito e non l'avrei mai detto però ci sta perché insomma presto almenia 39 ha dato delle soddisfazioni ha fatto andare a casa in tanti contenti almeno la night one a differenza della due che per me è stata comunque parimenti spettacolare ma non c'è stato quel trionfo annunciato di Cody Rhodes che forse ha smorzato un po gli entusiasmi poi sapete che io fare queste classifiche non sono molto bravo quindi non commento ulteriormente chiudiamo con un dentro o fuori su chi state preferendo in questo periodo che premia il lavoro di Finn Balor con l'84 per cento e boccia per certi versi quello di Bianca Belair che racimola il 16 per cento a dare la spinta al principe ci sono le vicende del judgment day a volte unito a volte in forte disaccordo con JD McDonagh alla finestra pronto ad entrare nell'alleanza a fiancheggiarla dall'esterno o addirittura a essere la miccia che la fa scoppiare chi ha votato Bianca devo dire la verità nei commenti non me l'ha motivato pertanto presumo l'abbia fatto principalmente perché ha trovato piacevoli i suoi ultimi match e ci sta chi avrei votato io non è facile perché in questo periodo comunque Bianca nel ring è stata concreta però probabilmente sì stavolta mi sarei accodato alla maggioranza cliccando su Finn Balor e con questo è tutto la prossima settimana i sondaggi saranno sui pronostici di payback dunque iniziate già a pensare a chi vincerà i vari match in programma nello show che seguiremo se vi va in live reaction su twitch nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre a partire dalla 1 e 30 di mattina se vi volete aggregare le live sono sempre gratuite trovate il link che vi conduce a quel profilo nella descrizione di questo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti